Alex di Leonardo da Sella Nevea. Molto bene, abbiamo fatto un bel giro, abbiamo avuto fortuna con il tempo, la guida è stata brava, il porter anche, i posti dove ci siamo fermati a mangiare e a dormire sono stati molto bene, tipici e comunque era quello che cercavamo. Sono Zeno, Zeno Ciaccom, d'Italia, è stato molto buono, abbiamo visto belle montagne, Annapurna, il sud, Maciapucciare, poi abbiamo visto la Valghiri, la città è anche buona, è stato tipico da qui, da questo paese, credo che Annapurna è davvero grande. è davvero grande, è davvero grande che il Monte Rosa, è davvero bello. Mi chiamo Astrid e vengo da Italia, è stato molto bello, abbiamo visto molti persone, locali, locali, montagne. Sara Petozzi, vengo da Tarvisio, Camporosso. Il ring è stato molto bello, i portatori erano molto forti e la guida molto simpatica. Abbiamo visto bei posti, montagne e abbiamo mangiato cose diverse. Grazie! Ciao! 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 Ciao!